Una manifestazione di atletica femminile organizzata dal gruppo sportivo Capitolino che ha riunito a Roma i nomi migliori del mezzofondo femminile nazionale. Il segretario del CONI dà il via alla gara vinta da Graziella Lucchese nel gruppo sportivo Giovinezza di Milano che copre il percorso di 1200 metri in quattro primi 39 secondi e quattro decimi aggiudicandosi il primo Gran Premio Capitolino.